Dobbiamo trattare bene i giovani, dobbiamo insegnare loro la gioia nello sport, dobbiamo essere empatici con loro nel momento in cui hanno delle difficoltà, non mortificarli perché in questo modo loro possono crescere come personalità complete e compiute all'altezza non solo di affrontare sport di alto livello ma di affrontare la vita di tutti i giorni. Con questo noi prepariamo i cosiddetti life skills che permettono ai ragazzi di diventare i protagonisti della loro vita e all'interno della loro vita può esserci una bella storia sportiva.